Sul parquet delle palapulerà di Giovino di Catanzaro, la Catanzaro Basket Planet ha presentato la nuova dirigenza, lo staff tecnico del roster, nonché il main sponsor Mastria Wending. Un palazzetto affollato e colorato ha partecipato con entusiasmo all'evento, applaudendo tutti i protagonisti di questa nuova entusiasmante avventura della Basket Planet nel campionato di Serie B 2017-2018. La società ha richiesto il sostegno concreto delle istituzioni locali non solo per il valore sportivo e di immagine delle titolo di Serie B, quanto anche per la valenza sociale del suo agire positivo sul territorio, annoverando circa 400 unità tra tesserati, iscritti e praticanti, oltre alle famiglie coinvolte nel percorso di crescita civile e sociale e sportiva dei tanti bambini e ragazzi che fanno parte del Network Planet. Con quali aspettative e con quali ambizioni si riparte? Le aspettative sono quelle sempre di mantenere la nostra amata Serie B, ma chiaramente quest'anno stiamo costruendo ancora di più un settore giovanile molto importante. La squadra ha un roster molto molto giovane perché a parte un solo elemento che ha i 29 anni, tutti gli esseri, il resto sono sotto i 22 anni, ad arrivare anche a 17, 16, 18 anni. Andremo a sviluppare l'idea che abbiamo già attivato da qualche anno e da quest'anno cercheremo di rilanciare l'idea, parlo chiaramente di prima squadra, di rilanciare l'idea di un settore che ha prodotto nuovi talenti, nuovi giocatori. La scelta di fare un roster molto giovane si accompagna all'inserimento di altri giovani che speriamo ripetano un po' quello che hanno fatto i vari Carpanzano, Scuderi e così via. Abbastanza giovane, nuova rispetto all'anno scorso, quindi sicuramente uno stimolo in più per affrontare questa stagione. I tre lunghi sono tutti nuovi, abbiamo Botteghi che l'anno scorso giocava a Cento, Biordi che era a Cefalù e Pichi che giocava invece a Siena. Ha questo nucleo tutti gli altri, diciamo, nostri giovani. Sicuramente è un'esperienza nuova, un nuovo gruppo, tutti ragazzi molto giovani, però dopo tre settimane, anzi quattro di lavoro, stiamo iniziando a giocare molto meglio di squadra e le sensazioni sono molto positive.